E' tornato alla casa del padre Don Cesare Ferri, rettore del santuario di San Giuseppe In Spicello venerdì pomeriggio i funerati Sovraccollamenti nel pronto soccorso, al Vienele Marche, nuovo modello organizzativo per diminuire l'attesa dei pazienti E assicurare più medici nel periodo estivo, i direttori generali e di presidio verranno valutati dall'Agenzia regionale sanitaria Il centro rivestiamo e riaperto a Cucurano di Fano dopo l'incendio nell'ex chiesetta di Centinarola Ecco la nuova sede di raccolta degli indumenti usati Cibo e salute al vie giovedì della confraternita del suffragio con esperti del settore, prelati e scrittori Teoteocoli, Gabriella Mancini, Umberto Galimberti e Francesco Guccini C'è grande fermento, Amarotta e Mondolfo per la prima rassegna letteraria con un libro all'aperto Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con il nuovo piano presentato dalla Regione per risolvere il problema di sovraffollamento nei pronto soccorso Nel servizio di apertura vediamo in che cosa consiste questo provvedimento che verrà sperimentato da oggi al 15 di settembre e che punta a diminuire l'attesa dei pazienti ma anche a migliorare le prestazioni erogate Ci hanno consegnato un quadro complicato, queste misure non saranno risolutive ma i provvedimenti che metteremo in campo andranno a migliorare il pronto soccorso dando una risposta a un'emergenza di sistema Sono le parole del governatore Francesco Acquaroli intervenuto alla presentazione del piano di potenziamento delle attività di emergenza urgenza che prevede la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo per i mesi estivi Questo ha sottolineato l'assessore Saltamartini e frutto di un lavoro che è durato mesi dopo aver registrato delle criticità sulla permanenza di persone che non riuscivano ad essere ricoverate nei reparti per mancanza di posti Ma non solo, infatti è stata rilevata in alcune occasioni una carenza nelle somministrazioni di cibi e acqua oltre ovviamente alla mancanza di medici Da queste premesse sono state messe a punto 10 misure a partire dall'ottimizzazione dell'attesa Che cosa si prevede? Innanzitutto nelle astanterie dei pronti soccorsi dovrà essere presente una persona che informa tempestivamente in tempo reale i tempi di attesa nei pronti soccorsi Dovranno essere predisposti anche dei monitor in cui dovranno essere indicati i codici di priorità quindi rossi, arancioni, verdi e bianchi in modo tale che chi ha la più bassa priorità si debba rendere conto che dovrà aspettare se ci sono i codici rossi Dopodiché viene istituita la figura del bed manager, un medico, un dirigente responsabile di allocare i pazienti nei reparti perché abbiamo potuto osservare che c'è quella grandissima criticità di una presenza eccessiva nei pronti soccorso Poi c'è un ulteriore intervento per quanto riguarda le ipotesi di sovraffollamento Nell'ipotesi in cui questo si verifica viene predisposto un elenco settimanale di medici con funzioni equipollenti che all'occorrenza potranno essere chiamati a prestare servizio nei pronti soccorso dai direttori di presidio Altra novità, ha proseguito Saltamartini, sta nel costante monitoraggio che verrà avviato su tutti gli addempimenti e i direttori generali, così come quelli di presidio, verranno valutati dall'Agenzia regionale sanitaria I medici che potranno essere chiamati in caso di sovraffollamento verranno remunerati con prestazioni aggiuntive e quindi sono dei trattamenti piuttosto rilevanti di 5-600 euro per turno quindi riteniamo che al netto dell'IRPEF ci possa essere anche un'opportunità per tanti medici per cui verificheremo nei prossimi giorni il funzionamento però qua nessuno poi si potrà giustificare per esempio come è accaduto sul fatto che per esempio mancava l'acqua o non c'era la prestazione alberghiera per le persone a pronto soccorso noi individuiamo esplicitamente per ogni ufficio, per ogni unità operativa complessa i responsabili che saranno chiamati a garantire il servizio tenendo conto, ripeto, di milioni di turisti che potranno arrivare alla nostra regione e del diritto dei medici di fare le loro vacanze, le loro ferie dopo due anni di pandemia Previsti anche progetti di adeguamento strutturale e tecnologico nonché l'attivazione dei percorsi di fast track attivabili direttamente dall'infermiere del triage quindi nel caso di patologie minori il paziente potrà essere sottoposto subito ad una serie di accertamenti senza la necessità di dover attendere la visita del medico del pronto soccorso Infine si punta ad una collaborazione da lunedì al venerdì con i medici di medicina generale e H24, 7 giorni su 7, con gli ospitali di comunità per la presa in carico delle non urgenze e urgenze minori e quindi i codici bianchi e verdi In tutta Italia il sistema sanitario è in forte crisi noi stiamo molto investendo sulle borse per cercare di colmare questo gap che si viene a verificare però dall'altra parte stiamo mettendo in campo tutta una serie di azioni che oggi abbiamo raccontato per cercare di efficientare il sistema di emergenza urgenza Abbiamo una media del 50% di codici bianchi e codici verdi che arrivano nei pronti soccorso sono codici che purtroppo per loro natura presuppongono un'attesa molto lunga e che quindi portano dei disagi agli pazienti e agli utenti sempre ma soprattutto nel periodo estivo quando un numero di cittadini, pazienti, utenti vanno nei pronti soccorso occorre dare una risposta più efficiente Siamo consapevoli che non è la risposta definitiva però siamo anche consapevoli che è un piccolo passo avanti di miglioramento, efficientamento del sistema attuale E' tornato alla casa del padre Don Cesare Ferri, 91 anni, rettore del santuario diocesano di San Giuseppe in Spicello Don Cesare, nato a Cartoceto e ordinato presbitero a Fano, al monastero delle Benedettine è stato cancelliere vescovile e cappellano dell'istituto Palazzi Zavarise dal 1988 La Santa Messa, con il rito dell'esequio, verrà celebrata nel santuario di San Giuseppe in Spicello venerdì 17 giugno alle ore 16 I finanziari di Ancona hanno eseguito un provvedimento di confisca per un valore di 420.000 euro nei confronti di un imprenditore settantenne di Osimo La misura è stata disposta con una sentenza irrevocabile di condanna a sei mesi di reclusione per il reato di omesso versamento di ritenute certificate L'uomo che rivestiva la carica di socio e di legale rappresentante della ditta che opera nel settore della fabbricazione di componenti elettronici non ha versato le ritenute effettuate sugli stipendi dei dipendenti negli anni 2011 e 2012 Ancora cronaca, un incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 10.30 in Viale Buozzi a Fano Un 74enne di San Costanzo a bordo di un motociclo Yamaha avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare un'auto che si stava spostando nella corsia centrale Infatti dagli accertamenti effettuati dalla polizia locale non sono stati rilevati segni visibili di contatto tra i due veicoli Sul posto anche il 118 che ha trasportato 74enne al pronto soccorso del Santa Croce in codice giallo Cambiamo argomento, dopo l'incendio dello scorso novembre il centro Rivestiamo ha riaperto a Cucurano di Fano Continua così la raccolta degli indumenti usati per ridistribuirli a chi è in difficoltà Il servizio di Filippo Pucci Dopo il devastante incendio del 2 novembre scorso divampato nell'ex chiesetta di Centinarola in via Brigata Messina che aveva distrutto anni di lavoro del centro Rivestiamo di Fano Dallo scorso 10 giugno il centro ha trovato un nuovo luogo per poter operare di nuovo al 100% Questa realtà, nata dalla collaborazione tra la cooperativa Contatto e la Caritas della diocesi di Fano Fossombrone-Cagli-Pergola, si sposta a Cucurano di Fano all'interno dello stabilimento Cose Senza Tempo di via Burratelli Qui, grazie ai volontari, vengono raccolti indumenti usati destinati a progetti di solidarietà e di inclusione sociale Qui per il cittadino che vuole conferire abiti, coperte, tessuti in generale insomma di cui non ha più bisogno può tranquillamente venire negli orari di apertura che sono il martedì e il mercoledì pomeriggio e il venerdì e il sabato sia la mattina che il pomeriggio Abbiamo riallestito il centro rivestiamo, quindi il servizio che avevamo nella chiesetta di Centinarola e questo è stato possibile utilizzando questo spazio dove siamo adesso dove abbiamo realizzato la cella dell'igienizzazione che è prevista dalle normative quindi attraverso lo zono tutti gli indumenti che ritiriamo vengono igienizzati appunto e avviene qua, il tavolo davanti a me, la selezione, quindi dividiamo i vestiti in base alle varie esigenze e poi all'esterno del cappannone invece abbiamo realizzato quello che era il magazzino lo stoccaggio all'interno di due container che abbiamo acquistato grazie a Caritas che cosa avviene con i tessuti, i vestiti che ci vengono consegnati sostanzialmente noi realizziamo tre aspetti positivi, tre aspetti etici diversi perché uno è sicuramente quello ambientale anziché buttare, anziché alimentare la filiera dei rifiuti e sprecare risorse riusciamo a rimettere in circolo gran parte, una grande quantità di quello che ci viene donato e quindi gli diamo una seconda vita. Un altro aspetto sociale è quello che appunto nasce in collaborazione con Caritas, una parte degli indumenti che raccogliamo vengono destinate a famiglie che ne hanno bisogno, quindi che hanno una situazione di difficoltà economica e quindi in questo caso vengono assegnati gratuitamente, non solo attraverso Caritas ma anche attraverso altre associazioni, attraverso i servizi sociali di alcuni comuni dell'entroterra e l'altra parte invece va a alimentare la nostra filiera del riuso dei due negozi che abbiamo come cooperativa Contatto. I pompieri sono intervenuti nel comune di Colbordolo per un incendio divampato in una ditta di lavorazione dell'alluminio il rogo è stato spento da due squadre dei vigili del fuoco sul posto con tre autobotti per fortuna non si registrano feriti ma sono in corso le operazioni di messa in sicurezza A Fano sono partite le asfaltature che rientrano nel progetto da 3 milioni e 700 mila euro Il sindaco Seri si è recato a Ponte Alto di Tombaccia per vedere da vicino l'avvio del cantiere saranno 53 le vie interessate per un totale di 31 chilometri lineari 4 invece le ditte a lavoro Prevediamo di completare tutto il pacchetto di strade entro la fine dell'anno ha commentato il primo cittadino cercheremo di limitare i disagi connessi alla viabilità garantendo la massima sicurezza Rimaniamo a Fano ma ci spostiamo in via Sironi dove un reporter di strada ha scattato queste fotografie per mostrare i continui allagamenti è diventata una cosa vergognosa ci ha scritto il telespettatore ogni settimana in questo tratto si rompe la tubatura dell'acqua e anche a causa delle buche non è possibile transitare in queste condizioni oggi si è rotta di nuovo a proseguito e mentre Aset la ripara per l'ennesima volta noi dobbiamo chiamare un idraulico per rasturare le tubature oltre agli sprechi d'acqua che paghiamo di tasca nostra vi siete dimenticati di torrette? ha concluso il segnalatore è ora di prendere dei provvedimenti Ci spostiamo a Mondolfo per la prima edizione della rassegna letteraria intitolata come un libro all'aperto tra gli autori Teo Teoccoli Gabriella Mancini Umberto Galimberti e Francesco Guccini a cui verrà conferita la cittadinanza onoraria a Marotta e Mondolfo c'è grande attesa per la rassegna letteraria diffusa che darà la possibilità a cittadini turisti di incontrare autori di spicco del panorama culturale italiano e dialogare a tu per tu con loro promossa dall'amministrazione comunale la manifestazione è in programma dal 16 giugno al 7 luglio c'è tanto entusiasmo e anche grande attenzione per questa manifestazione che coinvolge tutto il territorio sia Mondolfo che Marotta in tanti luoghi suggestivi del nostro comune quindi non vediamo l'ora di partire e sabato 25 poi confererete la cittadinanza onoraria anche a Guccini Sì, sarà una grande giornata un momento di festa per tutta la nostra comunità in piazza del comune alle ore 21 avremo la presentazione del libro e questo riconoscimento sancisce il legame reciproco e sincero di tutto il territorio con il nuoto cantautore Francesco Guccini Quale sarà il tema di questa prima edizione? Il tema di questa prima edizione di Come un libro all'aperto sarà leggeri e pensanti quindi la lettura e i libri come risorse per poter come dire leggere e osservare la realtà in modo consapevole e direi anche come momenti di svago e di sosta nella vita quotidiana dove stare leggeri però non superficiali quindi da non confondere la leggerezza con la superficialità appunto nell'approcciarsi alla realtà Tanti gli ospiti attesi si parte giovedì 16 con Matteo Bussola Su Matteo Bussola possiamo dire tante cose scrittore, fumettista conduttore radiofonico ci farà anche una bella sorpresa perché verrà a presentare sì, su Ultimo Libro Il Tempo di Tornare a Casa ma ci ha anticipato che il 28 giugno uscirà il suo nuovo romanzo quindi giovedì sarà un'anteprima anche del nuovo libro che è Il Rosmarino non capisce l'inverno e quindi ce lo racconterà per la prima volta è un'anteprima nazionale a tutti gli effetti e il libro già uscirà dicevo il 28 giugno ma è prenotabile ed è in vetta a tutte le classifiche Chi saranno invece gli altri protagonisti? Passeremo da Marino Bartoletti grande giornalista sportivo personaggio televisivo uomo di grandissima cultura musicale anche e molto altro volto di quelli che è il calcio per poi passare a Marina Rei che presenterà il suo nuovo romanzo avremo Giulia Baldelli che verrà sabato 18 nel pomeriggio Roberto Livi e rispetto a Giulia Baldelli e Roberto Livi devo dire che sono due chicche di questa rassegna perché a tutti gli effetti sono autori che quando li ho scoperti e ho letto i loro libri sono di quelli che appartengono alla categoria non vedo l'ora di leggere il prossimo libro che scriveranno e poi la rassegna appunto è diffusa perché si passerà poi il 25 giugno a Francesco Cuccini sul quale non c'è bisogno di aggiungere altre parole a quale daremo anche la cittadinanza onoraria 6 e 7 luglio due appuntamenti consecutivi che chiuderanno la rassegna con Teo Teocoli e Gabriella Mancini che presenteranno appunto il loro nuovo libro Il piede dei Dios e il 7 luglio invece avremo il professor Galimberti sempre a Mondolfo e Giardini della Rocca quindi direi che ne abbiamo da ascoltare anche la libreria Mondadori di Fano collabora all'iniziativa e lei Francesca avrà l'opportunità di dialogare direttamente con alcuni degli autori esatto il raccontare i libri innanzitutto è ciò che faccio normalmente in libreria avrò il piacere di dialogare con Giulia Baldelli con L'estate che resta un libro pieno di emozioni e con Livi con Solo una canzone che secondo me è un libro dove oltre alle parole c'è veramente tantissimo C'è un invito un messaggio che vuole lanciare i nostri telespettatori? Quello di partecipare a queste rassegne anche a chi non legge abitualmente perché conoscere storie ascoltare attraverso gli autori di storie di percorsi di vita secondo me arricchisce molto e magari invoglia pure a leggere Invece a Fano domani prenderanno il via i giovedì della confraternita del suffragio con 11 appuntamenti dedicati al tema dell'alimentazione Le tradizioni l'alimentazione e la salute patrimonio universale sono questi temi al centro dei giovedì della confraternita che si snoderanno fino al 29 settembre in calendario 11 incontri culturali promossi dalla confraternita Santa Maria del Suffragio che ha coinvolto medici biologi ristoratori prelati sommelier e scrittori Abbiamo un tantino cambiato programmi erano i segreti del suffragio ed era una settimana continua Invece quest'anno una mente geniale che non faccio il nome frago meno ha ideato i giovedì della confraternita Abbiamo avuto il patrocinio del comune di Fano un congruo contributo dalla BCC di Fano e quindi questo ci ha permesso di partire Gli incontri si svolgeranno nella chiesa Santa Maria del Suffragio in piazza Cleofilo a Fano con inizio alle ore 21 il primo appuntamento in programma per giovedì 16 giugno si intitola all'Osteria della Marianna ce ne parla il noto ristoratore Rolando Ramoscelli L'Osteria della Marianna è il ventesimo libro che ho scritto insieme a Gianfilippo Centanni si parla di un'ipotetica osteria posizionata a metà auriglia dove accadeva un po' di tutto un po' di cose vere un po' di cose aggiunte e dove nasce una cucina particolarissima perché è l'unione tra l'orto e il mare molte ricette che oggi chiamano creative già quelle donne quelle persone le facevano considerando che venivano da tutte le parti della provincia qualcuna anche fuori provincia quindi esperienze già acquisite prima in aggiunta di questi prodotti eccezionali che sono quelli di costa del pesce azzurro delle vongole e altri prodotti orticoli come il cavolfiore tra i protagonisti della rassegna anche il dottor Fiorenzo Gianmattei che il 14 luglio si occuperà di materie prime di qualità in cucina è inutile fare grandi preparazioni lunghissime complesse se poi le materie prime sono scadenti e viceversa però mentre con una buona ricetta ma con una scadente con la materia prima non combini niente è vero il contrario se c'è una buona materia prima bene o male si riesce a mettere in piedi comunque un qualcosa di accettabile quindi materie prime purtroppo che oggi sono in via di estinzione perché quello che c'è oggi va di moda in sapore in colore in odore per cui la gente non vuole più sentire i sapori per cui è un grosso problema parlerà invece della cucina di Abramo Monsignor Giovanni Tunucci arcivescovo nunzio apostolico parliamo di Abramo quindi è il nostro padre nella fede ma è soprattutto l'iniziatore del popolo ebraico nella legge che gli ebrei hanno ricevuto sul monte Sina e da Mosè ci sono già tante regole che si riferiscono al cibo cioè le cose che si possono mangiare e quelle che non si possono mangiare il modo in cui il cibo deve essere preparato e il modo in cui non può essere preparato oltre a questo c'è anche da capire che ai tempi di Abramo come ai tempi di nostro Signore tante cose che noi mangiamo non c'erano in Palestina di tanti tipi noi abbiamo le banane che vengono soprattutto lì da Jaffa eccetera ebbene e quelle non esistevano allora ecco per cui i frutti e gli alberi dei tempi biblici sono qualcosa di diverso ecco quello che io vorrei fare in maniera piuttosto facile all'ascolto e anche divertente è un po' di scoprire tutte queste realtà che sono comprese ma che vanno un pochino nucleate dal messaggio biblico ancora eventi l'associazione Vivere il Poderino ha presentato appunto il calendario degli eventi che animeranno il quartiere fanese durante l'estate sono nove le iniziative in programma fino a giovedì 4 agosto più gli eventi serali dedicati più piccoli si inizia domani alle ore 21 con un concerto dei Blu 3 un dopo cena con il blues di Mauro Chiappa Giorgio Vampa e Giulio Vampa tutte le manifestazioni consultabili anche sulla pagina Facebook dell'associazione si svolgeranno nel giardino di via Redi Puglia e l'ingresso sarà ad offerta a breve la Corte Costituzionale si riunirà per discutere sulla legittimità dell'obbligo vaccinale e proprio sul tema della libera scelta sarà incentrata la tavola rotonda organizzata dal gruppo Cittadini Liberi che si svolgerà domani sera a Pesaro ce ne parla l'avvocato Pieperrici l'incontro si svolgerà nella serata di domani a partire dalle 20.45 e 21 circa parteciperanno la senatrice Granato Bianca il professor Colonna il dottor Scoglio e io cercheremo di spiegare un attimino la situazione vaccinale in Italia perché c'è una gran confusione considerati i vari decreti che si sono susseguiti nel tempo e che in realtà sono andati tutti a modificare l'unica legge 44 che era stata emanata cercheremo di far comprendere anche il significato e il peso di quella che sarà la sentenza della Corte Costituzionale che verrà emessa più o meno a fine novembre e dalla quale purtroppo ovviamente dipenderà anche il destino di noi italiani la Corte Costituzionale potrà emettere una sentenza di accoglimento di rigetto o di inammissibilità se si accoglie quella che è l'eccezione di incostituzionalità della norma verrà a decadere quello che è l'obbligatorietà vaccinale se è un rigetto purtroppo viene confermato l'obbligatorietà vaccinale se invece viene dichiarata l'inammissibilità è un nulla di fatto e ci sono parecchie preoccupazioni sulla sentenza che verrà emessa da parte della Corte Costituzionale in quanto alcuni membri della Corte Costituzionale già da tempo si erano espressi sulla validità dei vaccini vi è da dire però che alla data odierna questi vaccini non hanno garantito quantomeno non nei termini per cui sono stati tanto decantati siamo ancora in attesa di sapere quali sono effettivamente i dati su questi vaccini anche perché purtroppo i media non evidenziano tutti quelli che sono gli effetti avversi dei vaccini io personalmente sto difendendo diverse persone tra cui una persona che è anche deceduta e il problema è che è difficile sempre dimostrare la correlazione fra la dose e il vaccino perché nessun medico si vuole assumere questa responsabilità prima tappa con arrivo a pesaro per obiettivo tricolore la staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi nel 2020 per riunire l'Italia dopo il lockdown che ieri ha collegato Iesi Senegaglia e Pesaro durante il percorso compiuto dall'atleta Guglielmo Capolino ad attendere in piazzale della libertà il 33enne Cagliaritano campione di handbike anche l'assessore alla rapidità Mila della Dora l'iniziativa ci aiuta a difendere i valori positivi dello sport in cui la città crede invesse da anni ha commentato l'assessore l'impegno di Guglielmo e degli altri atleti del team di Zanardi può essere l'ispirazione per tanti per affrontare le sfide sportive e quelle della vita quotidiana con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla tredicesima edizione di Centrale Festival vi ricordo invece l'appuntamento con l'informazione che torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa condotta dal nostro direttore Marco Ferri arrivederci